Il dirigente medico di pediatria del Giovanni Paolo II, che per disposizione di servizio di giovedì scorso avrebbe dovuto garantire a partire da oggi turni di guardia per i prossimi 15 giorni presso l'ospedale di Licata, non ha potuto iniziare perché un altro dei sette medici dell'unità operativa dell'ospedale di Sciacca da ieri è forzatamente indisponibile per sopraggiunta malattia e dunque sarebbe rimasto vacante a Sciacca il turno da garantire dalle 20 di ieri sera alle 8 di stamattina. Questa novità, che sarebbe contenuta in una comunicazione formale firmata da tutti i pediatri dell'ospedale di Sciacca indirizzata ai direttori sanitari aziendali di presidio e nonché al direttore del Dipartimento Materno e Infantile, conferma la piega del poco complicata che ormai è assunto alla questione delle mobilità imposte ai medici tra i cinque ospedali ricadenti sotto legida dell'ASPE di Agrigento. Già ieri era stata data comunicazione al direttore sanitario aziendale e nonché al direttore della stessa unità operativa complessa di pediatria dell'ospedale di Agrigento che aveva evidentemente invocato la disponibilità del medico per il San Giacomo d'Alto Passo l'impossibilità a dare seguito a quella disposizione di servizio. Si era fatto presente anche che al momento il numero di pediatri disponibili a Sciacca è talmente basso da non poter consentire nemmeno la garanzia della turnazione nelle 24 ore. Al momento i medici disponibili a Sciacca sono sette, dovrebbero essere nove, al San Giovanni di Dio di Agrigento sono undici, ma tra malattie e impedimenti per patologia da parte di due professionisti a svolgere il servizio notturno, la disponibilità totale tra le corsie del Giovanni Paolo II si riduce ulteriormente e oggi i medici disponibili sono appena quattro. Un reparto che al momento non ha più nemmeno un primario facente funzioni dopo che il dottor Michele Porrello ha deciso di rassegnare le dimissioni. Nelle scorse ore i pediatri hanno ribadito, in una ulteriore nota interna di cui siamo entrati in possesso, la sostanziale impossibilità a coprire gli stessi turni di guardia nelle 24 ore all'ospedale di Sciacca, alzando sostanzialmente bandiera bianca rispetto alla necessità richiesta di dover coprire perfino turni al Licato o altrove. Quella dei pediatri, che naturalmente non hanno rilasciato alcuna dichiarazione, perché è noto che non possono farlo, è soltanto la punta dell'iceberg. Probabilmente per come si sono messe le cose nei turni ospedalieri, questa vicenda rischia di essere considerata come una sorta di ammutinamento, per non dire di insubordinazione, ma i numeri sono numeri e se le persone da spostare da un ospedale all'altro fisicamente non ci sono, è difficile dare seguito a questi ordini, non dimenticando peraltro che siamo perfino in estate e magari i medici avrebbero anche il diritto a godere delle ferie. La questione sanità, mentre nel momento asciacca l'urologia con un solo medico e pochi medici della medicina sono chiamati a garantire turni anche a Ribera e Zappia, ricordando che a manco dei medici ha anche definito leggenda metropolitana la notizia che i neurologi preferiscono andare altrove piuttosto che accettare un incarico che li renda disponibili per cinque ospedali su cinque, la coalizione politica che sostiene il sindaco Fabio Termini oggi interviene per dirsi stanca di vedere il Giovanni Paolo II sempre più sottodimensionato. Se il disegno è smantellare l'ospedale di Sciacca ce lo dicano chiaramente, affermano i consiglieri facendo eco a quello che aveva detto ieri, il primo cittadino. Purtroppo attaccano questo disegno sotto gli occhi di tutti, soprattutto di chi si reca in ospedale per curarsi del personale che ci lavora, di chi a diverso titolo ha a che fare con il nostro nosocomio. È insopportabile, inoltre concludono i consiglieri che sostengono l'amministrazione comunale, che non si abbiano notizie sulle terapie riabilitative per adulti tanto attese, più volte promesse, ma rimaste ancora disattese.